Da una persona autorevole abbiamo adesso una risposta all'arte sul web. Cosa ne pensa Vittorio Garbi dell'arte sul web? Cosa penso all'arte? Non penso niente. Mi ha già fregato, basta. Questa è la risposta al fine. È la domanda che era sbagliata. È la domanda sbagliata? È la diversa prima. Com'era prima? Non mi ricordo. È possibile fare opere d'arte grafica sul web? Mi scambi a risposta. Perché no? Perché no? Finito? Questa era la risposta di prima. E adesso? Dipende dalla domanda che fai, se sei incogliorito. E poi le domande le riposte io. Le domande le riposte? A me non mi riporta un cazzo di web. Posso dire che nessun luogo che consenta l'espressione dell'intelligenza umana è precluso all'arte. Se puoi esprimere l'arte col cinema, con la fotografia, soltanto la natura è di strane all'arte. Perché la natura esiste indipendentemente dalla volontà dell'uomo. Ma tutto ciò in cui la volontà dell'uomo interviene. E quindi adopera gli strumenti, delle tecniche che gli consentono di esprimere i suoi sentimenti e le sue idee. Qualunque strumento che commette nelle condizioni di fare questo, non può essere strane all'arte. E' ovvio. Altrimenti ci sarebbe stata l'abitura a olio, ci sarebbe stata la video-arte, non lo sarebbe stato. Ma l'arte è un'espressione dell'intelligenza e dell'emozione dell'uomo. Non c'è l'uomo o non c'è l'aria? Sì, ma dopo però vi voglio vedere. Come siamo come coppia. Come coppia? Non male. Basta con sto telefono, gli do una martellata. Tu fai le domande che io rispondo al telefono. Cosa ne pensa di Lanfri? Cosa ne pensi di Lanfri? Che sarei io, Lanfri? Ma Lanfri, questa sarebbe la domanda? Sì, cosa? Caranno! Dai, sì! E' mica, io lo so. E' no, che risponde. Ma che sembra un po' suonando. No, no, l'antipatico. E' serissimo! Bene! Suonato va. Però non antipatico, bene. Suonato è felice. Adesso va, sì, sono felice, sono felice. E noi due come siamo come coppia? Carini, carini. Voi come coppia? Si può proposta. Da sposare. Cioè, da comprare tutti in blocco. Da comprare tutti in blocco. Cos'è la mia fidanzata padana? Ah, sì, la padania. La padania, sì. La conosco benissimo, sì. Ha fatto il detraso? Beh, ha fatto le mostre famose alla Fofo Caleri. Ha fatto la Galleria Cagnetti, la Fofo Caleri. Cos'è che ha fatto? Ha fatto delle mostre importanti alla Fofo Caleri. Ha fatto Sperone, Galleria Cagnetti, Anina Nosei. Anina Nosei, Galleria Carini, Fofo Caleri, che è una delle più grandi gallerie della padania. Ha fatto Sperone. Avercere gli artisti che possono andare a la Fofo Caleri. Un posto prestigioso. C'è anche stato quel grande artista americano, scossese, Lanfrey, mi pare. No, non mi pare niente. William Lanfrey. Ragazzi, sono emozionato. Lo sentite da come parlo. L'aver assistito ad una cosa simile mi ha portato a una emozione fortissima. Diciamo che Vittorio rappresenta proprio il personaggio più grande della Fofo Caleri. in tavola. In mani, tutti. In mani, tutti. Diciamo che N Healtho Caleri. Grazie a tutti